per avermi visto a rai 3 e chi non m'ha visto non importa lo ringrazio lo stesso faccio questo video per spiegarvi un po vorrei ringraziare anche ragazzi della rai perché hanno fatto veramente un servizio spettacolare meraviglioso e grazie veramente a tutti mi avete fatto letteralmente scoppiare il telefono dalle richieste di amicizia dei messaggi da da tutto quanto aspettate perché c'è la vostra cosa è un attimino e onestamente non mi aspettavo che venisse un servizio così bello così fatto bene sono anche venuta discretamente a parte in alcuni punti dove sembravo il cucino it e niente vi vorrei soltanto dire grazie per tutto quello che fate per me ogni giorno per la vostra amicizia per la vostra sincerità nei prossimi giorni farò una specie di video ora non voglia dove vi racconterò un po più nel dettaglio alcune cose di cui ho parlato anche nella trasmissione nuovi eroi quindi preparatevi a sentirne delle belle ci faremo tante risate perché comunque piangere si fino a un certo punto ma bisogna ridere il più possibile anche perché allunga la vita e preparatevi perché ne vedrete e ne sentirete delle belle ciao grazie ancora bacio a tutti